Gli Space Warps sono degli oggetti non renderizzabili che applicano un determinato effetto, solitamente simulano una forza, utili durante la creazione di effetti con le Particles. Nel Command Panel abbiamo la categoria Space Warps. Abbiamo più tipologie utilizzabili sulle Particles, come Force e Deflector, oppure sulle geometrie Geometric Deformable e Modifier Based. Nelle ultime release di 3DXMAX abbiamo anche Particles e Dynamic. Non sempre si utilizzano tutti, anzi, nella maggior parte dei casi gli Space Warps impiegati sono pochi e quasi sempre gli stessi, come vedremo prossimamente. Grazie a tutti.